L'emblema della cucina tradizionale cinese è racchiuso nelle bacchette per il cibo o chopstick. Questi utensili sono delle vere e proprie posate che in occidente si trovano per lo più sulle tavole di ristoranti tipici. L'origine delle bacchette si colloca nell'antica Cina. Infatti, a partire dal 1600 a.C. vennero adottate dalla dinastia Shang. La diffusione di questi bastoncini negli altri paesi asiatici è riconducibile alle vie commerciali che i cinesi tracciarono nei secoli. In base al paese in cui furono adottate, le bacchette vennero realizzate con materiali diversi, come bambù, legno, osso e argento. Anche le lunghezze cambiarono per adattarsi alle pietanze locali. Quando non si utilizzano, le bacchette non si appoggiano sul piatto, ma sull'apposito supporto. Le chopstick sono un modo originale per apparecchiare la propria tavola per gustare una cena takeaway.